Quando prendo una penna Bic nera tra le mani mi viene subito voglia di Scribble Art. Così la mano inizia a scarabocchiare senza mai fermarsi e tra i tanti scarabocchi emerge il volto di una donna con lo sguardo verso l'alto e scarabocchio, scarabocchio, la penna, continua, continua, senza mai fermarsi. Perché questo è il bello della Scribble Art, l'arte dello scarabocchio che consiste nello scarabocchiare continuamente senza mai fermarsi, senza poter cancellare e disegnare direttamente con la penna. Ti consiglio di provarci perché dopo ti sentirai completamente rilassato e per non perderti altri disegni o semplicemente se vuoi imparare la Scribble Art non dimenticare di seguirmi. E se ti va lascia anche un like.